Ma perché stanno dicendo Checobomba ci penso io? Non lo so Ah perché è il video Checobomba ci penso io Io metto sempre quei titoli così nutellosi Checobomba ci penso io? Punto di domanda Io ancora sto a pensare a quello che ha vinto lo skirmish Senza una kill Che ha fatto la partita 25.000 dollari in banca così Nell'intervista l'ha detto L'ha detto che lui è rimasto a camperare Perché è quello con il lanciarazzi Che se ne trova 5 tutti insieme Quello ha facciato la partita a 5 persone comunque Sono sotto Power io Sì un secondo stavo dando il get good a questo No vabbè però non c'ho Dove sei? Sei tu col pompa quello potente? No Power ti giuro su Dio Devi scendere giù Eh sono sceso Stai scappando da lui Sì io sì Ok Power guarda che cazzo ti sfida Sto sotto Ok ha spiegato i colpi Pazzo Oddio il pompa Aspetta Veni giù veni giù Veni giù Non ce la faccio oggi Per favore oddio Non sopra lo sei No Power Orca puttano Oh ma Cioè sfiga cazzo Io non ci credo che c'è sta sfiga comunque È scandaloso Mai visto una persona con così tanta sfiga in vita mia? Cioè non trovo un'arma che lo trova il pompa Vabbè Come ho visto? Non c'hai proprio niente Ah mi dispiace più a me che ti faccio perdere Ma che cazzo mi frega niente? Madonna Ah tu non hai capito che a me non me frega niente Non me stole la sto giocando pubblica per passare il tempo e divertirmi Non mi può frega niente se vinco o perdo No Positiamole tutte Non ho capito che Pulito Non guardo questo Daniel è tramballata Mi sono spaventato Pensavo che era Più vicino lo sai? Bello questa pompa Quando tempo Ah giusto Se non riusci il dinistro dovevi ammazzare gli altri Ah infatti Ah infatti Sì Non ci provate mai più Mica Che cazzo di velocità gli sono andato addosso a queste? Troppo Loro hanno fatto tutto Ma questi erano tutti convinti Incazzati Sì Uno era bravo L'altro no però Oh belli questi però Ma io da quando ho messo sta polsiera Che mi blocca il polso Non faccio più gli errori Perché tipo magari inclino il polso O ste cose Ma perché ho la sensibilità bassa da far schifo eh Cioè proprio io ce l'ho bassa da far cagare Cioè tipo io per fare 360 Gente Ok Facciamo materiali ma Poi pensiamo allora Sai che non voglio finire in una build fight Non avrei materiali per farli Eccolo Lì mori ragazzi Don son sgravo Sì no Un'arma rotta Cioè regà Non ci sta un cazzo da dire Cioè tutti gli aggiornamenti Vogliono fare Però non fixano sta cosa No St'arma è da È da patchare istantimamente St'arma ragazzi è da patchare Mo Non è Non è cattiveria A chi gli piace Ma non Allora Per il radio di fuoco che ha Il danno è esagerato Sì Cioè 57 se ti entra l'headshot Un'arma Perché poi ragazzi Il blume di quest'arma è illegale Finché la metteranno in cassaforte La giusteranno E la metteranno E la metteranno E le manano i revolvers Sono me fanno una pistola Che spara Raffi che dà tre colpi O la Glock Fidatevi Fidatevi Proprio I miei 200 Vanno su sta cosa ragazzi Clippate E postatemela Quando mettono la nuova arma Ma secondo me Metterebbe un'arma simile Cioè no Al posto del Sparerà pian piano No Secondo me mettono qualcosa Che è Di diverso Perché attualmente Nel meta che c'è adesso Del gioco È inutile praticamente Portarsi dietro La revolver Invece una pistola Che sarà automatica Potrebbe avere senso Perché Sono simile automatica Eh Tipo Non so quella di COD La B23R Non so se c'è presente Praticamente sarebbe La pistola Che spararà Fichita tre Eh quello Stavo a pensare Però non mi viene il nome Se era giusto Ma poi sai qual è la cosa Che a me dà fastidio Tanto È che la deagle Prima era l'arma Antica Caputana Troia Questa è la cinchiati poverino corello morto male non riesco più quell'armato chi è la doppietta che il tac sinceramente assolutamente non ha senso di esistere attualmente quell'arma stavo dicendo che c'ho le tacche stavano parlando che attualmente le pistole sono inutili prima cosa serve una buffata al danno e al caricatore perché dai le pistole chi cazzo le usa più ora alla deserti col prima era l'arma anticecchino no ora è andato che hanno fatto quella cosa del fall of damage e non può più fare il picca veloce con la di goal è che cazzo serve da avere una di gola niente è capito perché prima almeno ci piccava i cecchini quelli che stavano in preme era l'anti cecchino ora non so che cazzo ci fai lì c'è uno come un'altra cosa da allevare la boogie bomb si è stra inutilizzata pure quello occupa sotto uno slot nella casa no quella è veramente inutile cioè inutile la simpatica lì inizio sono tutti davanti mi sono spaventato ragazzi pensavo che ci avevano che cazzo ne so le trappole ste cose quindi sono andato tipo super cattivo comunque ancora aspettando una skin alla rocco si freddi tipo la la bucita dell'amica città che vi ricordate no bella ma skin del genere con la qualcosa di pala gaffner la cappatoia lagga alla gaffner esatto quella sarebbe bellissima del genere questa gente che così me ne killo altri tanto hai fatto poche kill ma se volete se ne trovo altri ecco la giuno che corre felice sui prati io ne faccio 40 di che con le a che dolore della pesa quello non ha capito no lo vedo un attimo ahhh 375 quando il 375 dovrebbe essere uscire subito morto proprio il rifuoco oh my sheesh queste cecchino mi danno benessere all'interno tipo un fumando la pace interiore presente cazzo fai rimasto lì è davvero rimasto lì ah uno l'ho visto se un'altra cosa figa sarebbero le bombe al napalm so già le puzzolenti beh però non avrebbero senso come cose che tipo fatte solo per il legno che si diramano sul legno avrebbero senso fare delle cose per determinate strutture eh quello no no infatti infatti ha senso come cosa oh ma ti giuro farei fra un po' farei meglio io il loro lavoro e me pagano pure di meno cioè davvero facciamo noi regà eccola guarda magari con meno bug eh la bomba ruggine per il metallo che tipo fa effetto corrosione ma ci stanno ste cose guardate che sono belle idee oh è lui? si dice penso io regà stavo per fare un muro poi ho detto ma che fare un muro? quando puoi distruggerlo ma perchè stanno dicendo che co bomba ci penso io? non lo so ah perchè il video che co bomba ci penso io che io metto sempre quei titoli così nutellosi che co bomba ci penso io punto di domanda ah dove cazzo è la gente? vabbè io mi lascio che devo andare a prendere le pizze guarda guys bella sol ciao barbon si ma quello è uno? quello è uno? oh si che è uno eh? oh mio dio guarda come saltano delle formiche povero il sito what? non ho capito ah perchè è caduto è una madonna però oh uomo esercito uomo esercito vabbè mamma mia il bacio questo headshot proprio vabbè tira il piattello no no ma sarò tercazzo oh vabbè busy boys se posso credere easy busy chicco bomba ci penso io ahahah madonna oh hai visto che è bello il tira il piattello usciva una sagoma boom 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 adesso si sta adesso si sta adesso si mamma mia bello eh ciao 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 ciao